La scorsa domenica si è conclusa la prima edizione di Resistenza. Sono state quattro giornate ricche di attività, dibattiti e tantissima arte. Al Crazy Plus di Palermo abbiamo parlato di occupazione e di disobbedienza civile come pratiche di lotta politica, del genocidio in Palestina, di fascismo, del casa santo, della libertà di stampa e dell'arte come forma di resistenza. Questo progetto è stato possibile solo grazie ad un immenso lavoro di squadra. Ringraziamo tutti e tutte coloro che hanno partecipato ai laboratori e ai dibattiti. Tutti e tutte le ospite arrivate da tante parti d'Italia, da tante città, con cui abbiamo fatto rete per creare nuovi ponti di solidarietà e di resistenza, ma anche tutti e tutte coloro che ci hanno aiutato a livello logistico ed organizzativo. Ed infine ringraziamo anche tutti i partner che hanno creduto in questa rassegna. E ringraziamo voi per averci sostenuto anche economicamente in questa grande avventura che non finisce qui. Siamo cariche e carichi e non vediamo l'ora di metterci a lavorare per la seconda edizione di Resistenza. Restate con noi! Siamo carichi e carichi e carichi e carichi e carichi.